Musica Fammi un po' vedere la meditazione cosa dice Ora attuale Vabbè Non importa La terrò per ultima questa cosa Fammi un po' vedere Cosa dice qua Sì ma non è ancora passata una settimana Quindi perché me lo segna Ah non me lo segna Allora torniamo dallo scemeno Questo Ora non mi resta che trovare Un cartello Per andare via da questo postaccio Oh grande sceovan Intanto proverò ad andare a ovest Metti che c'è un porto Qualcosa del genere Anche se ne dubito fortemente Rutilia Rutilia A ovest quindi di qua Riesci a galoppare nell'acqua spero no Ah non rotta Altri mostri Drowner Dai che bassa Quest'acqua Ah buono Ma non doveva essere qua ormai Ma dove cavolo sto andando E vabbè mi accontento Vado a nord Chi c'è adesso Ruggiti Sarà un solito Il solito orso Da quattro soldi Un ponte Un ponte spezzato Qua però c'è un villaggio Ancora meglio Vailo Sprigash Mi sono già stato qua per caso Lindenvale No Mai stato Annunci Annunci 2 Tenuta di famiglia infestata da mostri Bene Tracce che non avevo notato Cane scomparso Fili di lino L'ennesimo Fight Club Ah Sei quella Dolores Sei quella Dolores Mi stricami Mi solle Quasi Mi solle Un po' Choco Un po' Trifter Un po' Il Non C'era Ma Mi solle Si Mi solle Fa io potrei prendere questi monstri per te tu sei un uomo, certo? nessun uomo sarebbe così sicuro non freddo, è tutto il stesso per me, se che sei sincero la casa è vicino a qui prendi questa chai una volta che hai avuto le bambini guarda un cibo mio trascimento, un saluto sono te che ci resta con te? un cibo dietro la mia head è tutto quello che ho bisogno e se si arriva, ho altri luci per vendere ma io so che te, Wichers, non funzionano per libero non potrei mai lasciarti senza pagamento Dio ti guarda Tristan e Isador non mi interessa molto esca per chort o cort pasto alchemico no, le borse da sella ce le ho già se vende un libro c'è un motivo per me boff, io lo prendo ti può interessare qualcosa? tipo un paio di stivali? uso lo stivale avrò un aspetto buffo malotto contro il male abbastacca speravo potessi offrirmi qualche panereccio ma evidentemente mi sbagliavo la bacheca l'ho già vista fammi rivedere un attimo nei dintorni se c'è qualcos'altro il fabbro oh no sei proprio una di quelle stronze boh se ti avessi conosciuta prima comunque ti avrai probabilmente preso a schiaffi comunque Armarolo, tengo bisogno di una mano eccetera eccetera, si A Tori A Tori il Master Craftsman di Novigrad perché tutti ha ascoltato di lui? dice che è tornato ora, quindi no e nessuno può fare ciò che ti chiedi magnifico a Tori, me lo devo ricordare puoi forgiarmi qualcosa? almeno così posso recuperare tutte le cose che ho utilizzato questo la tengo e questo la smonto basta così sono più o meno allo stesso punto di prima ma sono molto più leggero quasi ripara tutto dai basta arrivedoci non mi ricordo però se ho visto la... no no no, lasciamo stare dunque, il carteio, il carteio sta da questa parte credo si si esattevolmente che ci fai la Rutilia? vuoi combattere anche te nel fight club? qui mi sembra mi sembra non non dovevo essere sull'isola per poter continuare molto strano, vabbè da che parte Geralt? guarda tu la mappa visto che sei bravo bene per di qua bene per di qua ah la spasimante del lupo mannaro mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra beh, almeno si rifarà una vita da qualche altra parte, in fin dei conti non ho fatto la scelta peggiore dovrà però spiegare perché ha ucciso il padre principessa prova a indovinare tu hai trovato il corpo del padre tu hai trovato il padre tu hai trovato tu hai trovato tu hai tornato per me tu hai qual è la tua storia? tu hai matato tu hai matato tu hai matato? tu hai matato tu hai matato tu hai matato ma poi è diventato ciò che il padre ha fatto il padre il padre il padre non poteva non poteva quindi il cuore il padre con un axe lo ha lasciato in la scuola ma i ragazzi nuovo il padre non è sicuro di tornare grazie witcher un riempire per la tua scelta e se le erbe o le remedie che hai bisogno per niente non le hai da me quindi il padre era un bastardo beh allora forse anche in questo caso non ho fatto la brutta scelta riguarda queste erbe silenzio coristi non mi fai molte molti sconti eh vabbè però spirito nanico può servirmi questo beh direi uno vento del nord questo non mi ricordo se ce l'ho per ora lo lascio lì dov'è a au re bisognerebbe però riorganizzare la pagina dell'alchimia cioè tutta a senso unico bombaldimeritium libero una nuova che blocca la magia e le abilità magiche dei mostri questo mi interessa però lo farò solo nei casi casi estremi rigogolo dorato invece cos'è che usa essenza luminosa i veleni neutralizza gli effetti dei veleni già in circolo anche questo mi va bene e questo lo uso però mutagene blu va bene così posso farne uno maggiore o non l'avevo già fatto boh poco importa verde maggiore veleno dell'impiccato grasso di cane e arenaria va bene ah peccato serviva anche per questo o almeno adesso un po' di cianfrusaglie in più risettiamo un po' i nostri mutageni ah 5 5 5 vitalità intensità del segno dovrebbero essere questi no? si uno di ah no aspetta aspetta si già meglio non c'è modo di spostarla eh no vabbè ci penso subito io e l'abilità invece la metto da quest'altra parte così posso potenziare al massimo le mie magie si yes sir vorrei avere più slot però immagino non si possa aver tutto ecco comunque ehm non voglio andare in quella cacchio di città pugni furiosi verità nelle stelle no questo dopo sbrogliando la matassa più tardi spade e ravioli ehm siamo un pochino a livello basso mi sa che questo attori dovrà aspettare volontariamente no dov'è quella eccola qua progressi nell'apprendimento altra occhietta all'inventario anche se siamo a posto direi si ok smembramento smembramento esperienza umanoidi eh perforante e fa anche danni d'argento niente male davvero potrei volendo equipaggiare qualche qualche oggetto eh ma si dai perché no axi no igni ah non posso che peccato ah perché sono di tipi diversi pensa te pietra runica i glifi vanno sul ha capito soltanto adesso i glifi vanno sulle armi eh sulle armature e le pietre runiche sulle armi sovarg penetrazione armatura incremento adrenalina non c'è modo di ordinarle eh pare di no che usare avvelenamento ehm congelamento questo mi piace invece vacillamento no per ora mi fermo così igni lo attacco alla mh alle scarpe ritorniamo subito in città senza correre contro dei muri invisibili magari qua c'è nessuno piccola deviazione ma non c'è nessuno chi è che sbadigliava boh molto strano ah c'eri tu e chi è che sei? vorrei che avesse qualcosa di interessante ah guardia del barone lasciamo stare almeno non mi ha coperto di insulti è già un inizio è così che si deve comportare una guardia dove stai andando ma grazie i mercanti erano a Crows Birch mi costruì un cuore e un pezzo di griffin su madre è una fortuna è una fortuna vedi cosa è resta di Heatherton i arrochi è quello che mi piace per la città quando si mostrià di nuovo Heather cosa? si? mostro le merci mercante argento ho un sacco di argento ma non so che farmene porca vacca quanto costano le perle dovrei mettere in atto una piccola strategia commerciale prima però voglio vedere un'ultima cosa queste cosa sono? placche d'acciaio normale cacchio è così difficile da capire no ero qua comunque per migliorare temporaneamente le armi non so cosa hai detto? come mi hai chiamato? dove cavolo sta il cartello? eccolo qua finalmente wow torniamo in quella cavolo di isola scommetto che è andata la per trovare gli appunti del tipo morto Alexander no? che era? che cavolo hai combinato? ma quanto siamo prevedibili? ma quanto siamo prevedibili? sì no strano no erano e soprattutto quando si tratta di sorcerici Ascolti per un momento e guardi me. Vedi questo? Bacchia, Geralt. Bacchia, bacchia. Io, Chiara Metz, advisor a Foltest, un membro della Lodera di Sorcerosi, ho bacchia. Pensi di quello che ti faccio, ma non resta in questo bacchia un giorno più, non un giorno. Sì, andrò per la Ponte, e questo significa che i ragazzi di Radovid mi troveranno più o meno o meno. Non capisci? Non ho una scuola, ho dovuto parli. Abbiamo un'altra opzione. Per andare a Caer Morhen. Voi credere che io sarei sicura? Ascolti che non fissi Lamberti, sì. Amir, Radovid, non potremo capire a te. Non c'è un po' di luce di luce, ma abbiamo un po' di spettacolo. È un po' di più, molto più oltre la linea di dividere. Ma se guardo il bosco fino ad arrivare le montagne di Kestrel, dovrei passare non notizia. Quindi sia. Sembra che mi trovo difficile rifiutarti, Handsome. Hai sicuramente una notizia di cosa le donne vogliono, di come pensano. riguardo agli appunti non saprei. Glieli lascio? Non saprei, cavoli. Non è che rischierebbe di farci qualche altro casino? Mannaggia! No, vabbè. Voglio fidarmi per questa volta. Quindi, vediamoci a Karamorin. L'occhio è libero di bambini, principalmente. Ho cercato di essere lì già. Vieni, Geralt. Beh, diciamo che è andata bene. Capisco che ha insomma, ha fatto tutto quanto per disperazione. Pecchiavo di pensavo di poter attraversarlo anch'io. Non importa. Ma a proposito, riguarda quel mostro dentro alla torre? Ah, è vero, che stupido. Era di sicuro la pesta. Dottore, ho la pesta! La pesta. Un film di Ennio Annio. Muori! Ok, spero di non aver fatto una cappella dandole, cioè lasciandogli appunti. Ok, qualcos'altro? Estratto di veleno. Riguardo a tutte le pozioni che ho fatto qua, non so di meglio. unguenti, unguenti, unguenti. Ah, ecco. È un peccato che però abbia pochissime cibarie. Pozione di Tirna Lea di Tirna Nog. Quanti ricordi. La gioventù della stupidera. Ehm... No, vabbè, non credo sia più necessario. Allora, adesso dove si va? Ma che cosa abbiamo? Una missione vicino a Maniero dei... Ah, sì, sì, sì. Ehm... Ferma tutto. Maniero, dunque, era una... Era un contratto mi sembra, no? No? Eccola qua. La caduta della casata Riardon. Ci sarà da fidarsi di quella dolce vecchietta? Boh, non ne ho più pallida idea. Quando la gente è troppo gentile vuol dire che c'è sempre qualcosa sotto. Ma, non era qua? No. Allora, questa missione che cavolo è? E quest'altra? Quanti punti interrogativi, cavoli. Devo potenziarmi di più. Facciamo così, vado a Dawn Warren e mi prendo cura di questa storia qua dei mostri che infestano il maniero. Grazie. 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 Grazie.